Telecamere negli asili nido e una serie di azioni finalizzate a prevenzione e formazione degli operatori. È quanto prevede la legge regionale approvata nella prima delle due giornate di Consiglio regionale del 27 e 28 di novembre. Oltre alla legge che incentiva l'installazione della videosorveglianza con uno stanziamento annuale di 300.000 euro, l'Assemblea regionale ha approvato l'istituzione del garante regionale per la tutela delle vittime di reato, che potrà intervenire a sostegno di chi si trova ad affrontare situazioni problematiche dopo aver subito delitti. Infine il Consiglio ha dato un segnale contro la burocrazia con il via libera alla legge di semplificazione che abolisce leggi ritenute inutili o vecchie.